Il Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano con il tempo ha modificato il suo ruolo valorizzando i territori in cui opera. Qual è la sua funzione? Ce lo spiega il Direttore Generale Andrea Renna. Noi praticamente salvaguardiamo il livello idrogeologico del territorio e nel contempo cerchiamo di garantire l'irrigazione per tutte le aziende agricole che nonostante la crisi, nonostante la pandemia comunque continuano ad assicurare un PIL oltre che dei prodotti ovviamente sani e di certa rintracciabilità e anche dei livelli occupazionali importanti. Rivoltivamente abbiamo avuto anche un finanziamento per quanto riguarda i POR che sono dei piani energetici e la prima volta che il Consorzio di Bonifica nel Lazio sono riusciti a catalizzare 5 milioni in tutto il Lazio. Noi come Consorzio della Nord che come sapete va da Montalto di Castro fino a Aprilia avremo un milione e due a disposizione nel rinnovamento dei nostri impianti e anche nell'efficientamento energetico. L'obiettivo è anche quello di migliorare la rete comunicativa con i cittadini. Diciamo che la colpa è anche sicuramente un po' nostra perché non raccontiamo, noi invece dobbiamo raccontare quello che si fa. La bolletta come la chiama giustamente lei è un ruolo che serve per garantire con un minimo secondo il piano di classifica che è lo strumento che governa anche l'imposizione del ruolo. Diciamo che sicuramente dobbiamo essere più bravi ma anche nei ruoli che stiamo mandando cerchiamo di spiegare tutte le attività. Abbiamo rinnovato il sito, è possibile interagire direttamente con i nostri uffici. Adesso salvaguardando tutte le misure precauzionali dal livello sanitario, ovviamente anche per vedere posizioni contributive vecchie. Purtroppo in questa regione c'è questa mentalità che il consorzio viene visto come una cosa negativa. Io credo che tutti quanti dobbiamo cercare, anche grazie a voi che fate informazione, la modalità per far ripristinare intanto la fiducia nei lavori e in quello che fa il consorzio. E poi cercando anche, perché no, di spiegare ancora meglio quello che facciamo. Con gli enti comunali c'è la massima collaborazione. Siamo a disposizione, abbiamo fatto un accordo con l'Anci, che è l'associazione regionale di tutti i comuni del Lazio e cerchiamo di non essere più considerati come una controparte, a partire dalla regione ma anche col ministero dove abbiamo recuperato anche dei finanziamenti che erano fermi da oltre vent'anni. Abbiamo aggiornato i nostri dati cadastrali che erano fermi, insomma, soprattutto per la parte romana, di almeno un decennio. Ecco, con i comuni, con tutti gli enti decisori, ma con la stessa ADR, con gli seconder che abbiamo nel territorio noi dobbiamo avere la possibilità, e lo stiamo facendo, di ottenere sempre più dialogo. Anzi, in alcune amministrazioni comunali, trovando disponibilità, siamo anche di concerto con loro perché possiamo fare dei lavori che loro dovrebbero magari affidare con gare, dispendosi eccetera, farle noi in house con i nostri operatori e avere anche la possibilità. Intanto mi permetto di dirlo con la professione dei nostri operai di farlo meglio e tra l'altro anche di risparmiare.